salve carissimi vedo che alcuni si trovano in difficoltà con la pronuncia delle spell che vi sto dando nella lingua straniera e non posso dire che non che non avete ragione perché ovviamente se non avete mai sentito la lingua prima come potete pronunciare soprattutto quando voi state conducendo quando qualche rituale allora avevo pensato ogni volta che esce qualcosa dove ci si usa la lingua straniera qualsiasi io ne posso parlare in sette lingue quindi vi posso trasmettere esattamente la pronuncia vi farò piccolo video dove quale sarà allegato alla magari al post che io faccio uscire stamattina ho fatto uscire il post riguardo a rimandare maledizioni indietro quante volte aveva successo che magari o state litigando o sui reti sociali o anche sul parcheggi ovunque è la persona che avete di fronte magari con arrabbia vi può pronunciare una parola pesante ho visto anche stamattina nel conflitto litigavano le persone e a una ragazza gli hanno detto perché non mori o muori una cosa del genere oppure qualche volta che dicono crepi o qualche volta ti dicono che potesse pian colpo e sono le cose che comunque sono delle programme che se cadono sulla una persona la colpiscono comunque molto spesso succede che noi abbiamo davanti le persone non abbastanza forti energeticamente per colpire ma capitano anche quelle che la loro parola può trasformare la vostra vita in un disastro quindi per questo a voi qualche volta mi senti quando si rivolgono le persone a me dicono secondo me mi hanno fatto qualcosa invece la persona non ha proprio fattura fatta applicata proprio perché una fattura un lavoro che non è che si trova così spesso perché non tutti i maghi sono capaci a fare la fattura e anche se lo fanno dopo possono essere diversi effetti come si dice collaterali invece maledizione se possono prendere prendere sia dagli altri anche da se stessi però quando vi capita quando vuoi che qualcuno vi dice una cosa del genere in faccia voi dovete pronunciare quello la frase che molto corta però non può essere pronunciata in italiano vi dico perché perché in italiano questa frase per funzionare dovrà passare tanto tempo per prendere la forza energetica quella frase invece in ucraina nel mio paese ad esempio questa frase ormai è pronunciata talmente tanto potete immaginare perché è molto famosa come la frase nell'ucraina potete se avete qualcuno che conoscete domandate quindi essendo già famosa le parole sono delle vibrazioni ok e poi messi in certa formula creano la potenza la potenza e praticamente queste parole diventano uno scudo potete rimandare il male e soprattutto quando vi dicono così vi spaventate quindi non vi dovete spaventare ma con tutta la rabbia proprio immaginare che voi mettete davanti voi lo scudo e proprio vedere visualizzate visualizzare questa energia che torna indietro dentro la bocca quella che vi sta pronunciando adesso maledizione verso di voi allora la frase è questa tuoi reci tai na tuoi pleci sacleto significherebbe in italiano questo le tue maledizioni cadono sulle tue spalle incantato ok però in italiano non ha la non ha il potere perché non è usato sicuramente voi dovrete vostri frasi quelle che della protezione noi abbiamo nostri io mi sto condividendo con voi quello che lo so io e sono sicura che voi pronunciate nella lingua mia funzionerà potete pronunciare una volta sola se succede sui reti sociali scrivetelo e lui leggerà anzi spenderà più tempo a leggere il nemico quello che aggressore più leggerà per capire che cos'è più voi creerete vostro scudo più rimanderete indietro una cosa che funziona ho visto che anche un altro collega che c'è tra le mie amicizie ha subito riconosciuto perché perché famosa la frase quindi usatela usatela che vedrete che vi aiuterà perché molto spesso questi maledizioni quando lasciano se lasciano non rimandati indietro si trasformano una fattura più vecchia più facile scusate più difficile a togliere per questo qualche volta vedo le persone che comunque hanno questi maledizioni vecchi che li trasformano la vita in un incubo perché maledizione non è altro che un programma programma che si può eliminare si può deviare voi potete deviare già staccare la testa in questo modo dopo una volta di successo questo tornate a casa oppure se avete possibilità prima possibile bar qualsiasi cosa dove c'è il rubinetto con l'acqua lavate la vostra faccia asciugate la faccia con rovescio dalla vostra maglietta ok e e basta queste sono delle cose che se usa in ucraina per togliere questi qua maledizioni adesso poco alla volta vi continuerò a dare questi aiuti così veloci ok a presto vi saluto tutti adesso